Arezzo nel 2020 non ospiterà l'edizione della fiera più importante per il settore dell'oreficeria Oro-Arezzo, che per la prima volta si ferma. Perdurano sui mercati internazionali le criticità causate dall'emergenza sanitaria, scrive IEG in un comunicato stampa. Le forti restrizioni imposte da alcuni paesi esteri di riferimento e soprattutto l'incertezza della regolarità dei collegamenti aerei già dal prossimo mese di luglio sono i motivi di questa decisione. Condizioni, scrive ancora IEG, che non garantiscono ai buyers esteri di poter raggiungere l'Italia e la Toscana e assicurare le migliori condizioni di svolgimento di Oro-Arezzo. La manifestazione si svolgerà dunque soltanto nel 2021, ma nel rinviare le edizioni di quest'anno, IEG ha comunque intenzione di sostenere le aziende ORAFE nella fase post-lockdown. Nasce su questi presupposti Oro-Arezzo Onstage, che permetterà agli espositori di potenziare la propria presenza online. Anche il valore per i distretti italiani e il territorio aretino resterà centrale grazie al concorso premier che Beppe Angiolini, presidente onorario della Camera dei Buyers della Moda e Art Director di Oro-Arezzo, lancerà durante una diretta Instagram il prossimo 9 di giugno.